...nuovamente la materia inanimata! Si può fare! Non è stare chiuso qui, pensiero, riempiti di sole e vai nel cielo, cerca la sua casa e poi sul muro. Scrivi tutto ciò che sai, che è vero! Che è vero! Sono un luogo strano, ma sì c'è! ... 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